Nonna, nonna, mi racconteresti una storia? C'era una volta un bruco che... Nonna, nonna, una storia diversa, dai! Quanto diversa? Una storia eroica, nonna. Va bene, nipotina. C'era una volta due supereroi che durante il periodo dell'insegna di triga e tempeste furono chiamati missione. La missione era scoprire e svelare segreti e novità di un'azienda molto potente che puntava a conquistare il mondo. In pochissimi giorni si attrezzarono e partirono per la Francia, diretti alla Big Bang Week. Durante il viaggio in aereo però si incontrarono un mostro molto pauroso. Aveva le abilità di un orco brutto e cattivo. Gli due supereroi non si fecero vedere e dopo un paio d'ore arrivarono alla destinazione. Testa luminescente si fece coraggio e camminò fino alla entrata. Entrò per primo. Piccola Gertrude non dormire che non è ancora finita la storia.